Salve a tutti, sono Samuele, vi do il benvenuto al nono capitolo di Insegna l'Orienteering, serie di video lezioni promosse dalla Federazione Italiana Sport Orientamento. Il software scelto per questo videocorso è PurplePen, perché è uno dei più utilizzati al momento. PurplePen, come è descritto nel sito purplepen.org, è un software gratuito, semplice e versatile per l'Orienteering, con cui è facile preparare percorsi e anche relative descrizioni punto. Per prima cosa dovremo andare a digitare PurplePen su un motore di ricerca e uno dei primi risultati che ci comparirà è il sito purplepen.org, nel quale dovremo andare a cliccare, poi ci comparirà una schermata come questa. se abbiamo un sistema operativo Mac o Linux dovremo andare a seguire la guida in basso per procedere con il download. Invece se abbiamo un sistema Windows possiamo procedere direttamente con il download cliccando sul tasto in centro. Una volta effettuato il download è necessario procedere con l'installazione del programma, operazione che è molto semplice e basterà a seguire passo passo le istruzioni che compariranno a schermo, per questo non è presente in questa video lezione. Passiamo ora alla creazione di un nuovo evento. Un nuovo evento è semplicemente un file dove potremo andare a creare i nostri percorsi di Orienteering. Aprendo il programma PurplePen ci si aprirà una schermata come questa dove potremo andare a scegliere se creare un nuovo evento oppure aprirne uno già esistente. In questo caso io andrò a crearne uno nuovo da zero. In seguito potremo scegliere il titolo del nostro evento che sarà anche il nome del nostro file. Io ho scelto di nominarlo lezione 1 di un ipotetico corso di Orienteering. Successivamente potremo andare a scegliere la mappa di sfondo cliccando cliccando su Choose Map File. Da qui potremo andare a scegliere la nostra mappa nel nostro pc. La mappa di sfondo potrà essere di diversi formati come OpenOrienteering Mapper, Ocad, PDF ma anche un formato immagine. Io ad esempio ho scelto la mia mappa in formato Ocad. Il programma ci farà vedere poi il percorso della mappa di sfondo che abbiamo scelto. In seguito potremo andare a impostare la scala di stampa. Io lascerò uno sta 4000 ma potrei andare anche a scegliere molte altre scale. Tutte quelle che voglio. In seguito questa schermata ci permette di scegliere le dimensioni del nostro foglio. Io ad esempio ho scelto un formato A5. Solitamente il formato più comodo di stampa è l'A4. Io ho scelto l'A5 per permettermi di avere due mappe su uno stesso foglio. A4. E quindi ottimizzare le stampe. Si può anche scegliere i margini della nostra mappa e anche l'orientamento del foglio. Se verticale o orizzontale. In seguito il programma ci chiede dove vogliamo salvare il nostro file. Se nella stessa cartella del mappa di sfondo oppure in un'altra cartella che andiamo a scegliere. Io lascerò nella stessa cartella del file di sfondo. In seguito ci chiederà anche gli standard della federazione internazionale di orienteering che vogliamo scegliere. Per quanto riguarda le descrizioni vi consiglio di lasciare sempre le descrizioni 2018. Invece per la cartografia dipende se la vostra mappa è di Bosco e quindi andremo a scegliere ISON 2017. Oppure se, come nel mio caso, è una mappa sprint, quindi urbana, andrò a scegliere ISPROM 2019. In seguito il programma ci chiederà da che numero di codice vogliamo partire a dare i numeri alle nostre lanterne. e se vogliamo evitare di avere i codici 6889 che si potrebbero confondere, se letti al contrario. L'ultima schermata ci fa vedere il percorso del nostro file PurplePen e ci chiederà di finire le impostazioni iniziali. Cliccando su Finish ci aprirà il nostro file PurplePen con la nostra mappa di sfondo. Andiamo ora a vedere come sistemare l'area di stampa. L'area di stampa ha quel rettangolo un po' più brillante rispetto a tutto il resto della mappa che vedete nel rettangolo rosso. Il programma ce lo posiziona in centro alla mappa ma noi probabilmente servirà a spostarlo nella zona che ci interessa. Come facciamo a fare questo? Semplicemente andiamo su File andiamo su Set Pintarea e selezioniamo tutti i percorsi. In questo modo l'area di stampa si sposterà tutti i percorsi che abbiamo o che vorremmo creare. Successivamente potremo andare a scegliere di nuovo come le impostazioni iniziali le dimensioni del nostro foglio i margini e l'orientamento se orizzontale o verticale. Con il mouse possiamo andare a trascinare la zona rossa quindi l'area di stampa nella posizione che ci è più utile. Ad esempio io la posiziono qui. Una volta cliccato su tutte le nostre impostazioni e trascinato l'area nella posizione ideale possiamo fare Done. E qui la nostra area di stampa ritornerà come prima un po' più brillante rispetto al resto della mappa. Una volta sistemata l'area di stampa che comunque sarà modificabile anche in seguito e personalizzabile per ogni percorso andiamo a creare un percorso in questo caso sequenza libera. Per creare un percorso nel menu in alto si selezionerà Course Add Course quindi aggiungi percorso. Cliccando ci comparirà questa nuova finestra che ci permetterà di inserire il nome del percorso il tipo di percorso ad esempio il dislivello e le lunghezze. In questo caso inserirò il nome stella al nostro percorso e selezionerò il tipo di percorso che è a score quindi sequenza libera. Basso invece si potrà selezionare altre informazioni personalizzate per questo percorso come ad esempio la scala di stampa la descrizione se in testo o in simboli o entrambe ma anche il numero che ci sarà a fianco ai cerchietti se il numero di sequenza o il numero di codice oppure entrambi. Una volta fatto ci comparirà nella tendina in alto il nome stella quindi il nome del nostro percorso che abbiamo appena creato. Successivamente andremo a inserire un punto di partenza quindi add start e io l'ho posizionato all'ingresso di questo cancello. In seguito andremo ad aggiungere anche il nostro primo punto di controllo io ho scelto di posizionarlo su questo albero e via dicendo con altri punti posizionandoli con il mouse. Cliccando su ogni punto di controllo questo croccino in centro ci permetterà di centrarlo nel punto corretto e con il mouse potremo anche andare a spostare il numero di sequenza nella posizione ideale. Per permettere una migliore visibilità possiamo andare a cliccare su Event e Customize Appearance quindi di modificare l'apparenza del nostro percorso aggiungere uno sfondo bianco ad esempio io ho scelto di 0,2 mm attorno al nostro numero. Questo ci permetterà di migliorare la visibilità ad esempio e soprattutto sugli edifici. una volta fatto premo la nostra area di stampa con l'interno il nostro percorso nel mio caso avrò il percorso Stella. Partiamo ora ad aggiungere la descrizione punti per raggiungere la descrizione punti bisognerà andare nel menu in alto e cliccare Descriptions cliccando poi e trascinando sullo schermo il cursore del mouse ci comparirà questo rettangolo rosso che sarà poi la nostra descrizione punti potremo andare a sceglierne la posizione e le dimensioni una volta posizionata potremo comunque in ogni momento andare a modificarne la posizione ma anche le dimensioni il passaggio successivo è quello di andare a determinare gli oggetti dei nostri punti di controllo che abbiamo posizionato questa operazione si fa nella descrizione punti che si trova a sinistra dello schermo nella quarta colonna cliccando su quelle caselle ci compariranno una serie di simboli che potremo andare a selezionare ad esempio il primo punto di controllo il codice 31 nel mio caso è un albero isolato pertanto andrò a selezionare il simbolo di albero isolato come vedete in basso in fondo ai simboli compare una scritta che è quella che comparirà poi nella descrizione punti testuale questa operazione è necessario farla per ogni punto di controllo una volta fatta potrete vedere la descrizione punti completa nello schermo nella posizione che avete scelto voi in precedenza facciamo ora ad aggiungere un testo cosa ci potrebbe servire ad aggiungere un testo ad esempio creare l'intestazione della mappa inserendo la scala a cui distanza ma anche inserire il nome del percorso per inserire un testo basta cliccare nel menu in alto add e poi selezionare text una volta cliccato ci comparirà questa finestra dove potremo andare a inserire nella barra il testo che vogliamo aggiungere selezionare se è un testo speciale selezionare il font se lo vogliamo in grassetto o in corsivo il colore e la dimensione in questo caso io andrò a inserire un testo speciale cioè il nome del percorso selezionato dal menu a tendina quindi comparirà il nome stella cliccando ok potremo andare a posizionarlo poi nella posizione ideale e volendo anche cambiare le dimensioni andiamo ora ad aggiungere l'intestazione della mappa quindi ripeto l'operazione add text e vado a inserire il nome della mappa la scala e l'equidistanza passiamo ora a vedere come ritagliare una parte della mappa ritagliare una parte della mappa possiamo fare inserendo uno sfondo bianco che andrà a coprire le parti della mappa che non ci servono per inserire questo sfondo bianco andiamo nel menu in alto selezionando add white out area con il mouse andremo a selezionare l'area che non ci serve quindi che vogliamo far diventare bianca e con un clic l'area che abbiamo selezionato diventerà bianca e sarà bianca anche nella stampa dei percorsi dopo aver creato in precedenza il percorso a sequenza libera andiamo adesso a vedere come creare un percorso a sequenza obbligata il procedimento è lo stesso quindi andiamo nel menu in alto selezioniamo course e add course si aprirà poi la nostra solita finestra e andremo a selezionare in questo caso il tipo di percorso normale e andiamo a rinominarlo quindi in questo caso lo chiamo percorso A andremo poi a selezionare il control sempre nel menu in alto per aggiungere i punti che vogliamo in questo nuovo percorso possiamo selezionare quelle che avevamo già messo in precedenza oppure aggiungerne dei nuovi per fare questa operazione possiamo utilizzare anche la scorciatoia control A una volta completato il percorso rinuncerà una cosa del genere nel mio caso il percorso normale ho scelto di aggiungere la descrizione punti in simboli questa volta cosa che si può fare andando a modificare le impostazioni del percorso come abbiamo visto in precedenza una volta creati tutti i percorsi che ci interessano possiamo passare a creare i file di stampa per creare i file di stampa in formato pdf basterà andare nel menu in alto cliccare su file create pdf e courses volendo potremo andare anche a esportare le descrizioni punto e i cartellini cliccando su courses ci si aprirà questa nuova finestra nella quale potremo andare a selezionare diversi aspetti come i percorsi che vogliamo esportare per esempio ho scelto all quindi tutti i percorsi percorso A il percorso stella e la tutti i punti possiamo scegliere dove salvare i nostri file pdf se nella stessa cartella del file purple pen nella stessa cartella della mappa di sfondo o in un'altra cartella che possiamo dare anche un prefisso del file pdf cliccando su create poi purple pen ci creerà i nostri file pdf andiamo a controllare nella cartella che abbiamo selezionato vedremo che purple pen avrà generato i file pdf rinominati come il nome del prefisso che abbiamo scelto quindi in questo caso lezione 1 trattino il nome del percorso una volta creati è bene aprire i file pdf per andare a controllarne la qualità e vedere che sia tutto a posto e pronto per la stampa una volta finito il lavoro è bene andare a salvare le modifiche nel file purple pen in modo che in caso di una futura lezione ad esempio una lezione 2 che sarà magari nella stessa zona non servirà a creare un nuovo file a 0 ma potremo andare a modificare il file che abbiamo già creato vi saluto grazie per l'attenzione e vi do appuntamento con i prossimi video della serie grazie